Finisce 2-2 tra Castelnuovo e Fiuggi in un incontro giocato a viso aperto da ambedue le formazioni che non si sono risparmiate per portare a casa la vittoria. A fin dei conti un risultato giusto che a fine gara soddisfa i due allenatori. Tra i padroni di casa sente fagioli al suo posto sbarbati così in panchina si accomoda foglia per far spazio all'anderolivi. Per il resto confermata la formazione che ha battuto il Giulianova sette giorni fa. Novità per i laziali con mister Incorciati che ridisegna la formazione passando ad un 4-3-1-2 con Basilico alle spalle della coppia Gaetani e Tornatore dirige Matteo Campagni di Firenze. Pronti via e la gara prende subito i binari giusti per gli abruzzesi. Massimo Loviso è abile a procurarsi un calcio di punizione dal limite dell'aria. Poi è magistrale l'esecuzione dello stesso numero 5 che batte Novi sul palo lungo per il nono centro del centrocampista. Un minuto dopo i neroverdi recriminano per un falo di mano di Morconi in area di rigore ma Campagni dice di no. Ma il vantaggio locale dura sette minuti quando una conclusione dalla distanza di Basilico viene respinta da Natale. La difesa nero-verde è un po' in ritardo così il più veloce di tutte ad arrivare sulla sfera Gaetani che ristabilisce la parità. La rapidità degli avanti di Guido di Fabio mette in seria difficoltà il Fiuggi che rischia di tornare sotto nel punteggio al dodicesimo quando Emili dall'interno dell'area di rigore colpisce solo il palo interno. Preme il Castelnuovo che dalla bandierina prova a sorprendere il rosso-blu con uno schema di Loviso che chiama la conclusione dalla distanza dei Gidio ma nel tiro tanta potenza ma poca precisione. A metà della prima frazione è ancora Castelnuovo a provarci ma il colpo di testa di Casimirri sul primo palo non trova la porta per questione di centimetri. La coppia del Duca a Morconi soffre la rapidità degli avanti Terramani che al ventiduesimo vanno via sulla sinistra con Emili che serve un cioccolatino a sbarbati al centro dell'area di rigore ma lo stesso numero 9 al volo mette incredibilmente fuori. Sul finale di tempo opportunità ancora per il Castelnuovo ma di ruocco a botta sicura deve fare i conti con Proia che alla disperata salva i suoi in angolo. La seconda frazione è approcciata in maniera diversa dal Fiuggi e lo si nota già l'ottavo minuto quando Proia dal limite approfitta della corsa respinta di Terrenzio ma la conclusione finisce sul fondo. Al quarto d'ora però il Castelnuovo torna avanti grave infortunio di Novi che si lascia scappare la sfera sul quale si avventa De Giglio che viene atterrato rigore sacro santo che trasforma il solito Massimo Loviso che raggiunge la doppia cifra. Al venticinquesimo Loviso ha anche l'opportunità di portarsi a casa il pallone ma sulla punizione calciata da 25 metri questa volta e bravo Novi a sventare con la punta delle dita in angolo. Alla mezz'ora il pareggio degli ospiti, il direttore di gara ravvisa in area di rigore un falo di olivi su Forgione dagli 11 metri in sacca Proia per il pareggio dei Fiuggini. Il Castelnuovo accusa il colpo ma ha un'occasione potenziale prima del quarantesimo con Di Ruocco ma il suo tiro cross per poco non beffa Novi che si allunga e mette fuori nel recupero è Michele Foglia per il Fiuggini approvarci ma la sua conclusione mancina dopo l'incursione dalla destra è troppo centrale. Con questo pareggio il Castelnuovo non riesce a mantenere la vetta della classifica scavalcato dal campo basso e mercoledì nel turno infrasettimanale primo stop forzato causa Covid della stagione mentre il Fiuggini ospiterà il Matese. Mister Di Fabio a fine gara l'abbiamo vista passeggiare un po' all'interno del rettangolo verde stava ripensando amaramente a quell'occasione regalata sul falo da rigore? No, l'occasione non l'abbiamo regalata perché i ragazzi mi dicono che non è successo niente in aria però è andata così, l'arbitro ha visto così e c'è da accettare tutto poi passeggiavo in campo perché Sanseverino aveva perso il GPS quindi sono andato a ritrovarlo non ero assolutamente pensieroso Ecco, che partita ha visto? Una partita, un 2-2, alla fine possiamo dire anche corretto tra due squadre che hanno giocato a viso aperto, forse abbiamo assistito anche a una delle partite più belle finora in questo campionato. Sì, sì, indubbiamente è stata una bella partita, mi sono divertito anch'io perché il Fiuggi è una buona squadra, lo sapevamo, è una squadra che prova sempre a giocare a calcio, da dietro questo naturalmente permette, in caso di qualche errore di passaggio, delle ripartezze importanti forse l'unica pecca è stata questa, da parte nostra, che tutte le occasioni che abbiamo avuto per ripartire per andare a fargli male, magari siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio, poco lucidi nella conclusione però abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere la partita, sono stati bravi loro a crederci fino alla fine il risultato è anche giusto, però niente, quello che rimane è un'altra grande e bella prestazione della mia squadra e sono contento di questo perché vi ho già detto che il girone di ritorno è un altro campionato le squadre ti conoscono meglio e quindi non ti lasciano nulla al caso però noi continuiamo per la nostra strada e devo fare i complimenti anche oggi ai miei ragazzi noi in questo campionato ancora regaliamo molto agli avversari, questo è chiaramente riconducibile un po' all'immaturità delle letture e noi stiamo cercando di migliorare abbiamo un parco giocatori che ci consente di lavorare con dei criteri e quindi siamo contenti anche così perché io sono soddisfatto di una squadra che è venuta nella prima della classe imponendo il gioco e non avendo timore di nulla dimostrando di essere anche su un binario buono di interpretazione di questo gioco quindi è quello che mi soddisfa, il risultato certamente non va bene neanche a noi oltre che a Castelbomano io non sono soddisfatto perché abbiamo regalato due gol che potevamo evitare mentre i nostri li abbiamo fatti lo stiamo lavorando e producendo quello che secondo me è importante produrre in questa categoria non abbiamo ambizione di vincere il campionato io personalmente no certamente ci stiamo strutturando per fare un qualcosa di più importante grazie 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 grazie